La morte all'improvviso, una scarica elettrica, letale, imprevedibile. Un operaio albanese perde la vita così senza neanche accorgersene. Un suo collega è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, mentre un altro si è salvato per miracolo. È tragico il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio in Via della Chimica, a Marghera, nell'area della Nuova Sirma, fabbrica chiusa da alcuni anni per problemi di natura ambientale. Ormai lo stabilimento è in stato di abbandono, con tetti sfondati, rifiuti, piante rampicanti che infestano i muri e sporcizia. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 15, ma i medici del 118 non hanno potuto che constatare il decesso. Per il malcapitato, nulla da fare. Sul posto si è precipitata la polizia per le indagini. Non è ancora chiaro in che contesto sia maturata la tragedia. Gli investigatori lo stanno accertando con i vigili del fuoco, i tecnici dello Spisal e il servizio prevenzione dell'azienda sanitaria. Il cadavere è stato trovato accanto a una cabina elettrica dell'Enel. Gli inquirenti cercheranno di capire perché i tre operai albanesi, regolari, dipendenti di un'azienda che si occupa di bonifiche ambientali e addetti allo smantellamento della fabbrica di Via della Chimica, si sarebbero trovati in un'area della ditta probabilmente non di loro competenza. Il terzo operaio, quello che si è salvato, sarebbe il fratello della vittima. Devastato dal dolore, ha cominciato a tirar pugni contro le vetrate, ferendosi e lasciando tracce di sangue. Adesso, dopo la tragedia, restano tante domande a cui dare una risposta.